Resta ancora in sospeso la posizione di Freddy Pacini, il gommista di Monte San Savino, che nel novembre 2018 uccise colpi di pistola il ladro che era entrato nella sua azienda. È stata infatti fissata l'udienza di fronte al GIP del Tribunale di Arezzo Fabio Lombardo per il prossimo 19 giugno. In quella data si discuterà alla presenza di tutte le parti della richiesta di archiviazione formulata dal PM Andrea Claudiani ormai un anno fa, il 13 maggio 2019. Si tratta di un passaggio scontato, il legale della sorella del ladro, la parte offesa appunto in termini tecnici, aveva depositato una memoria in cui sollevava alcune obiezioni e chiedeva ulteriori approfondimenti. Il prossimo 19 luglio si terrà così l'udienza in Camera di Consiglio, al termine della quale il giudice dovrà decidere se archiviare il caso, così come richiesto dal PM, se rinviare a giudizio il gommista oppure se richiedere nuove indagini. Era la notte tra il 28 e il 29 novembre 2018, quando nell'azienda di Via della Costituzione a Monte San Savino, dove Pacini dormiva da tempo, esasperato dai furti, avvenne il fatto. La banda a colpi di mazza sfondò la vetrina dell'attività. L'imprenditore, così svegliato dai rumori, esplose cinque colpi contro i ladri dal soppalco. Uno di questi fu fatale a Mircea Vitalie, 29enne Moldavo, che stramazzò poco dopo sul piazzale. A quel punto fu lo stesso Pacini a chiamare i carabinieri. Per il PM, Andrea Claudiani fu legittima difesa putativa. L'imprenditore, secondo il magistrato, quella notte avrebbe infatti agito per tutelare la propria incolumità e quindi non sarebbe perseguibile. Da qui la richiesta di archiviazione di un anno fa.